Ciao a tutti bentornati sul canale, sapete benissimo che nella stampa 3d sono importanti i test, ovvero un test in particolare il temp tower. Tante volte nelle discussioni, tante volte nei vari gruppi che seguo sento appunto la necessità della gente di fare una temp tower non sanno dove andare a farla, come farla e quindi ovviamente seguendo un video che vi invito ad andare a vedere, che ho già fatto per quanto riguarda cura e i calibration shapes, andiamo a vedere proprio nello specifico come creare una temp tower, quindi questo video si dedica proprio alla realizzazione da zero di una temp tower. Che cosa è una temp tower? Una temp tower praticamente è una piccola torre ovviamente, dove avremo un cambio temperatura a una determinata altezza che ci permetterà di calcolare bene la temperatura del materiale da andare a stampare e la possibilità di vedere anche come reagisce con gli sbalzi e quindi con i ponti, in modo che se avete piccole parti sbalzi o piccoli ponti potrete tranquillamente non supportare quei supporti e risparmiare tempo e materiale. Ci trasferiamo su cura e andiamo a vedere come realizzare da zero una temp tower. Bene eccoci in cura ovviamente dovrete andare abilitare plugin calibration shapes in mercato come faccio vedere nel video dedicato al calibration shapes, una volta abilitato questo plugin avrete riavviato cura dovrete andare in estensioni in part of calibration e selezionare la vostra temperatura, appunto la temp tower che avrete bisogno in base al vostro materiale. Io per comodità oggi faccio quella del PLA temp tower a 190 gradi quindi partenza da 220 a finale di 190. Dovremmo poi andare ad attivare effettivamente lo script che ci permetterà il cambio layer quindi in post elaborazione sempre estensioni post elaborazione in modifica codice G. Andremo ad aggiungere questo script che è appunto il temp found tower, il temp found tower che ci abilita la possibilità di andare a decidere dove andare a cambiare i nostri e le nostre temperature in base al layer. Avremo una base di temperature 220, un incremento di meno 5 a ogni cambio layer, l'altezza del layer e l'offset di quanti layer abbiamo di base. Allora in questo caso 4 ma ma attenzione perché tutti questi valori ci serviranno soprattutto l'offset di 4 ci servirà per fare il calcolo esatto del cambio layer perché in automatico non è così preciso. Allora come fare questo calcolo? Ovviamente date l'anteprima ok quindi avrete la possibilità di vedere i 184 layer quindi questa temp tower è fatta da 184 layer di cui dovremmo andare a togliere 4 di base ok quindi abbiamo 180 layer da dividere in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 step di cambio temperatura quindi 180 diviso 6 farà 30 e di conseguenza 30 sarà il valore da applicare qui al change layer ok? Quindi adesso questa è una temperatura appunto cioè una temp tower a 190. Se magari andate a selezionare quella del PTG o del BS o del PLA+, o del normale temp tower che va anche a 185 gradi ovviamente il cambio step di layer sarà maggiore quindi dovrete dividere per il numero insomma di ponti. Contate i ponti a parte il discorso della primo perché il primo viene comunque selezionato come prima temperatura voi dovete fare il cambio. Io di solito lascio sempre come prima temperatura di stampa iniziale quella che è poi del primo ponte e facendo così devo solo selezionare i successivi punti andare a dividerli praticamente. Detto questo non c'è nient'altro che fare l'esportazione del file e abbiamo realizzato la nostra temp tower. Quindi ricapitolando plugin calibration shapes andiamo appunto poi in estensioni, post elaborazione, modifica codice G, aggiungiamo il temp fan tower e andiamo poi a fare quel calcolo per avere il change layer corretto quindi verrete poi che ad ogni tot, ad ogni 30 layer in questo caso avremo il cambio temperatura poi se volete volete fare un cambio prima dopo potete tranquillamente deciderlo in base alla posizione che volete però insomma così è garantito che ogni ponte sarà stampato alla temperatura differente quindi avrete il giusto modo di vedere quello che è la temperatura come si comporta in quel momento lì su quel ponte lì insomma. Quindi detto questo ovviamente io ho concluso spero di avervi fatto finalmente il video finale esaustivo per quello che è la creazione da zero di una temp tower non dovrete più andare a cercare in giro sono praticamente pronte all'uso qui su cura grazie a questo plugin io per ora vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ragazzi